Eccoci qua ragazzi, infatti ciao a tutti, ben tornati a un nuovo video, ben tornati a un nuovo... ...Docchio of Doom. Siamo in compagnia di The Game, ovviamente, ma purtroppo è successo Bug Splat, quindi io no. E su T.S. con noi ci sono Epic e Chris e anche Gelo che è mutato. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ma questo era Epic che ha parlato? Ah, Gelo. No, era Epic. E' Gelo. Allora ragazzi, ora vi faccio vedere una cosa, eh. Gelo, fingiti un parroco. Mi scusi, signor parroco, c'era una caramellina? Ehi, vieni qua bel bambino. Mamma MAAAAAAA! Un bel confessante. Ma questo è chiamato lo scettro di Dio! Oddio... ...ma tu sei... ...malvacino. Comunque ragazzi, facciamo una cosa. Vi voglio subito spiegare che cosa consiste il video di ieri Era per dimostrare a tutti voi Che i troller stanno dappertutto E per dimostrarvi anche che devi essere fortunato Per salire E io ho letto dei commenti Eh ma anche in Silver ci sono i troller Poco de... de... de noè Ok? Ok? Ora vi dico per quale motivo me lo del culo quando vi dico così Se uno ha le placement Può arrivare a massimo gold E può arrivare a minimo bronzo E non può arrivare a diamond Cazzo de... de... De no... Giusto? Un cazzo de motivo ci sarà Quindi vuol dire che in Silver è normale che ci sia gente più scarsa È normale che ci sia gente che troller di più Perché non gli entrare con un cazzo per strugare Silver E non potete comprare il Silver con il Diamond Ok? Detto questo Ancora niente Vado un attimo a FK pomodorlo Ecco mi è tornato ragazzi Lo so che mi è abbracciato con la serie della gaming Però finchè TheGame non mi dice che stanno in game io non posso entrare Jacopo stanno in game? Da un minuto Ok ecco Riconnecto Non mi fa entrare Bug e Splat che bello Dai è così ragazzi Poi guarda caso sono jungler capito? Guarda caso sono jungler Mannaggia Chris Mannaggia oh Io manderei alla radio Guarda Per radio games Quindi ragazzi Lo chiamo è tutto Comunque Sate che voglio fare? Voglio fare Ah che poi Molti di voi non hanno neanche capito il video di The Lady Non avete capito il video di The Lady Che dovete aprire anche voi un altro video E ho letto dei commenti Cane ma che gusto c'è a vedere te che eri per 10 minuti Ma che cazzo? Testa di cazzo Testa di cazzo Sei un testa di cazzo Sei un cazzone Perché non è possibile che tu L'ho detto 8 volte all'inizio Riconnecto Comunque Sono sicuro che vi porterò altri video con la Rio Quindi con The Game Con Chris Con Epic Con Sharky Con Alessio Vi riporterò sicuramente ragazzi Perché Sharky sei ancora vivo dopo la grande scopata Sharky è scapocciallo Mo Prima Lascia il clan e tutto Mo Se fare du mila Guarda Sharky ha scapocciato ragazzi Eccomi qua There we go Grazie a The Game che mi ha detto che erano giornati in game Sempre puntuale Anche se io l'ho detto 8 minuti fa Di come The Game Dimmi quando vorrei entrare in game Che va bene Che lo dico Che bisogno E vabbè E vabbè Unlucky The Game Poi Dovete sapere una cosa Siamo Playtino 355 punti In The Game ha diventato main ad Gary Vuole giocare ad Gary Perché ha capito Come mid mate Ormai è un po' scherzetto Ho detto Hai come mid mate So scarso Per fidare una persona Fidiamole due Esatto Perché per danni uno Ma non posso per danni due Cane invece ha giocato Prima abbiamo giocato Con gli smurf E l'abbiamo vinto tutti e due Giusto E l'abbiamo vinto tutti e due O sbaglio Quando vado a mio mid L'abbiamo vinto tutti e due Con la tier mid Mi pare che hai perso Ah è vero Perché tu con Tristan Eri useless Era quella partita lì Quella che non caitavi Perché se Caraiuto ragazzi Con la di carry non caitava Perché se no lo killavano Ma è anche logico ragazzi Figa Ragazzi mi pare logico Ragazzi mi pare logico Perché c'avevi otto morti Ragazzi ma mi pare logico Cioè è normale Se c'è la di carry Non è che devi caitare Ragazzi ma dove cazzo vi chiede Se c'è sir Mi pare ovvio Che devi andare così Mad Into 5 people E morire Senza fare niente E' meglio E' meglio fare quello che facevi tu Ovvero non fare danno Giusto No no C'è ragione E' meglio suicidarsi Provando ad ingaggiare Su una persona Meglio suicidarsi Regalandogli il Baron Ma se stavamo a 35 minuti Grazie a me Perché voi non facevate niente Ora vi spiego ragazzi The game ha fatto I stessi danni Nel nostro support Come ha di carry Non è vero Si Si che è vero Ah se è vero Il nostro support Hanno fatti 300 di più Scusate Quando tu hai preso Più danni del tango Hai preso Ma ascia aperte Eh certo Ciao Arilite Ancavo di più di shen Ah C'è ne pagava un cazzo Non era che sta a giocare Con flatinet Non lo so Ma è andato a di carry Perché adesso Almeno non può essere Colpa sua Colpa del support Oh c'ho l'alise in qua O l'ho visto solo io Non mi immagino le cose Vero? C'ho l'alise in top Non lo so Basta il volume dei cuffie Epic 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 Chi non risponde è Frocio Epic Eh Chi arriva l'ultimo è Frocio Non lo ricordate? Specchio riflesso Tu madre è in cesso Guarda quanto sobra il bot Arrivo Arrivo mate We got this Tipita Sono morto Quanto ce l'ho forte XDD Forca boia Il cane è droppato perché C'è il team che è scarso ragazzi Mamma mia che ho fatto Per questo che non riesce a carry a quest'elo Che cazzate che ho fatto Mannaggia però Ma tu sei fortissimo Ma com'è sta cosa? Perché quando giocavo il tema Si abbassarono le prestazioni Aaaaaaah Per quello E' che probabilmente si Ah per quello Non è perché sei rotto nel culo inutile Ma che c'entra Ma perché mi chiamai con le stesse pari Con cui chiami tu madre Non ho capito Di me basta Abbiamo capito Puttana Rottere Basta Abbiamo capito Hai avuto un'infanzia difficile Tu madre è una zoccola Non basta Meno male che psicologicamente ho messo pressione al robot lane Nooo, ma è bello che stiamo vivendo Vitto, ma com'è possibile? Non ti è reso conto, vero? Non ti è reso conto, vero? Raga, sembra che non faccia un cazzo E invece sta a carriare Stanziare uno zero Ma forca miseria Stava carriando C'è che non avrei mai detto Ok, ora basta Ma dopo ho fatto una volta abbastanza stupida ragazzi Non so neanche io Quale cazzo io mi abbia fatto una cosa del genere A dirvela proprio tutta Continua, continua Una gliela puttana Lei sul mio l'ho fatto Ecco quello Oh, porco giuda, ho sbagliato Hai schiccato Mi ha visto Buoy, al top gliel'ho mandato proprio C'ero Hai sin salse, porca buoy Ci vuoi fare scappare Eh, non hai raggiato perché Stavamo per fortuna C'erano i minion nostri Top l'ho mandato proprio sotto il mio top gliel'hander Porca troia No, eravamo morti però Attenti che mi sa che sta qui dentro l'isina Qui dentro Attenti Oh no, sta qui lì sì Vai cazzo in Bello lì, buonissimo Questa cosa è buonissima per noi Ma è incredibile ragazzi Certo È incredibile questo jungler Io non te ne dico le cose Però è calcolato che sì Questo è buono però per noi ragazzi Perché adesso Io ho preso un assist Quindi ho preso un po' di exp Vabbè L'isina non c'ha l'ulti Quindi adesso per i prossimi 60 secondi I bot in Torino non dovrebbero mai gankare Perché è una nostra bot che è abbastanza strong È top È top Purtroppo non gli posso di niente È colpa mia questa situazione È mid con questa kill In Torino dovrebbe reggere Fizz Spero Però mo io voglio fare un gank mid Prendo i rose Prendo i go Crax Rosso E ganko mid È top L'ho sbagliato io ragazzi C'è dato quel dopo buff a Darius Che non gli devo dare È stata tutta my bad Ma non è raga curato il double buff Vedete ragazzi Se sei forte sali Invece Io Morici solo te Morici solo te Bravo Non sai che ci muore pure brumper No Buono Quasi è buono C'ho provato Casali non ha fatto un SS No l'ho fatto invece Sì l'ha fatto L'ho detto Io non li ho sentiti Vabbè erano in 4 volte Sono morto solo io Io ci ho provato L'ho ammazzato a cosa Perché tanto ero morto uguale A chi? A TAM C'aveva 10 HP Sì però adesso Se cassa di ci muore No cassa che non può muore C'è morte Ma forse no 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 Non c'è muore Però c'è muore Se ci rimane Può fare un Q Sul minion Che da cosa Ah io esco adesso così Eh fa cazzate però Sto cazzata Boom Vai cassa di Ma è bravissimo sto cassa Forse il flash mio non ce l'ho bisogno Però No don't care Vai Vai cover Vai c'è Vai c'è Vai c'è Sono morto Tancancì mille Ehm Ho ultato? No 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 È venuto a piedi Cazzarin qua 2 ha seguito Se avessi seguito Cazzarin avremmo killato l'isin Vabbè la sua volta faccio un paio di cazzamia Scendono l'isin in Tancancì Scendono l'isin in Tancancì Però l'isin Ha veramente poca vita Ah io buscio la wave Ecco Tancancì Ma l'isin proprio più l'ha regalato Chris ma c'è ancora su TS? Sì Minch ma c'è il sangue dall'orecchio Ah ah Mid 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 Eh top è rimorto Però che cazzo Mo adesso stiamo morendo un po' troppo forte Eh mate Colpa tua Eh eh Sarà pure colpa mia ma Cioè Resta sotto torre C'è l'isin qua Ragazzi Ah un catam Ci ha fatto a scappare? Eh l'hanno visto Vedete Qua ci ha fregato il fatto che non c'era vision Se Braum avesse messo la guarda là dentro Tristan si sarebbe salvato Sapete 100-100 eh Giusto o sbaglio Dei game Dicelo Non lo so Però ho fatto stai e tu non stai a fancazzo Minchia Ho dato una kill a mid Stai al 7 coso Porco giuda Chi? Adesso sta allo GP Ma che cazzo rune si è fatto Remasteries Mentre Io sono stato fk Io sono stato fk E non ho preso il pull Eh la bot loro sta sopra noi Adesso Eh ma ti gank Appena posso Mo' li stiro laggiù Quel che posso Tanto Questo va a bot side Tipo ragazzi vedete Io non posso counter Gank a mid però Non c'ho gank Però c'è anche l'isin Il problema è questo C'è l'isin qua Eh vai ma è una kill Ha ultato Fizz Vabbè GP Per favore Non c'è andato GP Oh io non so Come ha fatto A stunnami Da qui Mi ha colpito Qui con la E E mi ha stunnato Ti giuro Non c'ho idea Come abbia fatto E ultala Ce l'ha ulti Cristo No questa è una bella Placeball Dario è stata tipata Ce lo siamo killari Questo è stato buono GP ha preso l'assist Va bene così Mo' di gank bot appena posso Jacopo Con un po' di pressure La farm di destana è buona Bravissimo Cazzo Buono Ha fatto un sacco Di cazzate questi Che hanno fatto Recuperare il GP Cazzo Morto per voi Morto Ma che cazzo Questo non è Morto ragazzi Ma è Morto per noi Eh dico per loro Sì io non intendevo Volevo finire la frase Questa non è Morto per loro Arrivò Comunque Ormai è stralizzata cosa Vabbè ce la killiamo Io ho 30 secondi Alla ulti Basta che prendo la E Ti arrivo Wait me bot Lo scrivo perché Non si sa mai Bravam Dove è wordato Ma questo non è wordato Non è wordato C'ho 4 word Aspetta quando lo prendo di Quando andate su Vayne Basta una guarda ora Andate su Vayne 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 Dai se no Questo coglione No è Vayne che c'ha la possibilità Dai che lo stai Dai No Non c'è arrivato L'auto attacco L'hai visto Ma vaffanculo Qua fa il lato gas Non capisco Non capisco perché Bravam Si è attaccato tutta la torre Non capisco perché Bravam non abbia Targettato Van Kench Con la passiva Sinceramente Però Non ci ho potuto Targettarlo Mi faccio Frustare in altri Ragazzi perché È molto forte Ad aria Contro quel team Se GP muore come uno Stronzo Mi cazzo Eh vedete GP Perché qua è morto Attaccalo C'è una cazzo Di true damage No no GP ha fatto Due cazzate Una ha fatto refull a Darius Si molto love Sta tipo qua Love Uno ha fatto refull a Darius Con la passiva Della Q E l'altra Non ho usato Il true damage addosso Fini Cassadin Eh Cassadin sta troppo indietro Rispetto a cosa Mi ha portato Tu stai botte Che un po' ti ricanco Dammi no Lasciami il red Mi serve Mate Minuto 14 Ma ce la faccio Ma ce la fai che si Ma tranquillo Tu torna a bordo Dammi il red Ma che rosso Non te lo do adesso Non me lo fa smitar Va bene Andiamo su lì Arrivo Ma Arrivo Arrivo Ok prendete la double Che E' morto Bot Brom Buon ultimo Qua siamo stati a lag Ragazzi Perché di che meno Non riusciteva a usare la ulti Non ce l'avevo la ulti C'è bene che mi arriva C'è bene che mi arriva L'avrei usata subito Però non ce l'avevo E l'avete dal cazzo Tanca Ha flashato Ma sa che ha flashato pure quello Sai Questo per levare una ward E c'è morto Ah no Ha flashato il resto Questo per levare una ward E c'è morto L'hai visto? No Coglioni però 0-5 sto Madonna Ma che cazzo l'ha Stavamo a vincere una volta E poi ci hanno visitato Vabbè è venuto Fizz una volta In realtà Fizz una volta No Fizz e Lee Sin Una volta insieme Quella non c'è flash Quella non c'è flash Ma lo so Ma arriva Dunk Edge Anche Dunk Edge non c'è flash Arrivo a piadillo Sta ancora là dentro Vabbè probabilmente Arriva io Dove Brom non mi segue Brom Stay Aspettiamo che fa il giro Io ti aspetto qua dentro Aspetta qua dentro Vedali Faccio vinta niente Allora devo stare qua dietro Eh ma se non vengono qua Dove sono a te No prendi le due Te li ho toffali Vabbè Dobbiamo riportare Non posso farmare Guarda se Se vengono a botta La vediamo Vai botta vai botta Arrivo anch'io Vai mette Non c'ho vision Nessuno Quasi ma Arrivo un Dunk Edge Di ulti sono morto C'è Fizz che sta qui Eccolo Fizz Bene sta lì Vai buscio la botta Allora Ti devo coverà No Ti è morto te Dai che sta qua Andate a vedere qua Andate a vedere qua Mamma mia uno peggio Che un altro Ma che è Mamma mia Cazzo Ci sono presi 3 kill No in qua mid Top però è morto Me lo killo Forse sono questo Me lo killo Me lo killo Me lo killo Morto No l'ho fatto Però non ci dovrebbe morire Non ci dovrebbe avveluti Ancora che sei Refullato Ma serio Porca Non ci dovrebbe avveluti Non ci dovrebbe avveluti Non ci dovrebbe avveluti Non ci dovrebbe avveluti No no Adesso faccio sta No vado back subito Perché tanto viene Tutta anche Faccio l'ultima busciata C'è Fizz che si sta a fare Guarda io ti metto una pink Dove la pink? Io vado back Vado back Ma ti metto dove la vuoi te Qua Qua Stanno nella giungla nostra Stanno nella giungla nostra Sì Ha guardato qui Allora metto la mia pink Ma forse Mi faccio il blue drink Mi faccio l'estero Fizz qua Dovremmo gruppare Dovremmo No porcazzo Dovremmo Dovreste fai da Quando venni E botta a farmare Qua GP siamo Molto più forti Baci No ci potevamo andare Ci potevamo andare Ci potevamo andare Prima che sei morto Prima che sei morto È bene ha flashato Madosca porca Dovevo facersi una cosa del genere? Che ha fatto? No C'avevo la W tra un po' Però mi ha shottato con una Q Ma perché ha flashato? Perché c'avevo la W Pensavo di flashare la Cassadin mica scende Cassadin Sveglio GP non c'ho la ulti Eh sta d'ora la perdiamo Ma guarda Ma guarda GP che Mastery schiacciamo Eh lo so Non so perché Si è fatto quello Arriva Arriva Lai ce la lasciamo Accoperare questa Sì Vabbè Cassadin Si prende la torre Un po' dei soldi globali Stiamo troppo sotto Le soldi globali Aspetta loro Fizz 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 Questo che è stunnato Eh lo so Quello si era Polizionato Ma a me stanno più Debo Debo Vedete A me mi hanno shottato Io so il tank vostro Mi hanno shottato Cioè non siamo riusciti A shottare loro Flontline Dove venire su Fizz Orcadina Bravo Perché tanto Non hanno toncance Eh no Eh 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 Molto No C'ha la ulti GP GP c'ha la ulti Eh mica Che più contro Un mondo top Boh Non so Sta qui dentro Regalà questo Non so No Oh GP 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 Oh GP Nice Vai il rosso Adesso te lo puo Prendo idea Quando farò danni Solo il rosso Tipo Stai 0-8 Porca Caginato Ti serve un infine Eh bro Le poche ghiere potevo prendere la prese Brom Ma Avevi visitato la bot Ma non t'hanno visitato ma t'hanno fatto due gang Eh no mate Ma non puoi visitato sto barro di Cristo Vita lì Dobbiamo stare dentro al barro Se loro Loro trovano il barro Non te lo dico io Questi non sono Quei barro Al fine c'è un anno Indovina chi sarà pronto Sliro Sliro Io vorrei full-arm qua Abbiamo cercato di Di baitarli Prende cosa On the back Tag catch Champion del cazzo Ecco GP Sta svegliato Ho preso un assist Efezza ha flashato Buono Mi hanno preso il drago E il secondo drago Oh oh Guarda pin Guarda pin Eh guarda pin Non la guarda pin Non la guarda Non la guarda Non la guarda Non la guarda Non bo Mi posso fallire Arriva lì senta dietro No mate Eh C'ho Senza cosa Non c'abbiamo Un cazzo Wave clear Eh ci ho provato Ha flashato però Ma sali singolo Non lo so L'ho ultato via Sincero Non so se dopo ha flashato Che ha fatto GP Ma che ha fatto Ma vabbè adesso vorrei far danni Io non so che cosa abbia fatto GP sinceramente Mi devo fare la testa per la trono su tutti gli AD Ma che ci ho messo Tranne Fizz E' normale mate Eh sì Di che faccio No Di che faccio Di che faccio Io possiamo Fetà secondo me Quanto manca a te Possiamo fetà qua Possiamo fetà C'è che è un bot C'è che è un bot C'è che è un bot Vai Darius 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 Tancacci Arriva anche Vayne Appena viene Vayne mi giro su delay Baron Che Vayne è qua Oh Arrivo Ma perché non riesce a mettere una cazzo di stack su Vayne Braum Andare a fuscello dopo Ti ho posto fa Per tutto il fight che Vayne è stata lì Non gli ha messo una stack Braum Lo sai Una Ma ce l'ho fatto per me anche la T2 Devo attaccarlo Non è che so Però mi Oh T2 è andato in back T2 è andato in back Per forza De pusho a top Sì Secondo me puoi andare anche back adesso Vai vai back Vai back Vai back Buono 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 L'ho fuori affidato la ult Cioè gli ho stunnati però Battendoli dal muro Gli ho stunnati per meno tempo Di più è morto Bravo Cerca di villate fissi tanto Morto per morto Ah lucky Cosa va nel bar World baron Tipo Bravo Sarà una world Ma in cazzo Eh ce l'ho due world Nel inventario Poteva andare a world Al baron Invece non l'ho fatto Questi sono i player Che mi stanno sul cazzo Mo io devo cercare di andare Dietro al baron Tipo qua giù Così almeno Quando lo iniziano Io lo vado Per culo Io vado Dobbiamo cercare Boccal E Alive Tutti loro Mettelo via Ah vado via Sì io cerco solo Dessere il bar Oh Arrivo 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 No ma bagarre LOL Che cazzo Me l'hai buttato addosso a me Mettelo No me l'hai buttato addosso a me Vabbè Ha flashato Dario Mi è morto Tanché Perché me l'hai buttato addosso Mettelo Ma io lo volevo buttare Addosso a me Lo volevo buttare No addosso a te Dai ulti Ah Lo volevo buttare Dossso al muro Io lo suffissimo Io lo faccio Siccome già hanno parecchi Dung Mi faccio La ruina Eh fatemi questo Sta Mamma mia Che sepe Chi ha fatto Però non l'hai visto Ma dove sono andato Ancora? Eh Il team cat rosso Vai vai Continua Continua Non ce l'ha la ultima cosa No No Eh vabbè Non ce la faccio Io ce lo mobilito Lo prendo Ma quanto è veloce C'è rosso l'oro Prova per lì Per lì un po' Ah vediamo un po' Che bello No 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 Io l'ho ultato tanto per C'è tanto Mettoci provo Cazzo bene Da questo scappiamo Lo obbediamo a questo? Vabbè No Andar via Andar via Andar via Vabbè Eh ti ha chicca Dove Cazzo di info Dai vieni tranquillamente Qua Vengo pure io scusa Cazzo è ormai arrivato Tu ce l'hai Lei per andare via No Si ce l'ho Adesso Cazzo di info RACAZZO DI EEEE MAMMANCIA LA PUTTA MAGNAGIA C'ho la p... È arrivata Vayne qua Hey it's me Vayne How are you mate? Ah è son co***o Che te Eh porco giuda Non pensavo che Vayne Mi arrivasse da qua su Eh lo sai che purtroppo Il brave player Ah dai Eh vabbè Stanto sto 1-11 Arriva io voglio Andiamo al baron Andiamo al baron Procassi il lion qua Se se lo fanno Adesso è finita Se se fanno adesso il baron È finita Finita no però Porco dei... Eccolo Bravo Guarda Cazzo in Hai visto che roba Ha fatto No dobbiamo andare via qua Via bravo Fizz after Hai visto Cazzo in Che ho ultato In mezzo a tre persone Seriously Con la ultima Fizz addosso Seriously Bravo GP Oh It's me Vayne Per 2 GP io trastavo in quel barile Scoppiato bravo Boom Flash divisi Trocchiglia quella Oh Ah Una parola Ah Finizio tra poco C'è ancora il pesce Quello dove vuole Magnanza Porco giuda Hey it's me Vayne Non ce la fai a difendere C'è 5 secondi a Cazzo Una torre la fai a difendere Una torre No Per Fizz mentre c'ho la ulti app Ma dei game pentano WP Peccato ragazzi Ho giocato malino Mi farò solo il culo Una cosa Che sto cacciato all'inizio E non mi hanno dato Non ho potuto avere un pull Decento Sto cosa mi ha fatto il culo Io ho iniziato bene E poi ho perso il game da solo Praticamente si Comunque ragazzi Il video è difficile Vi dover lasciare un bel like Se il commento 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 A faccio a tutti ragazzi Che è la lupo Eh Gneee Praticamente